Si è conclusa in tragedia un'escursione nella grotta di Risorgenza a Roccamorice, alle falde della Maiella Pescarese. Tre speleologi, a causa del maltempo, erano rimasti bloccati nella cavità naturale, due sono stati tratti in salvo, uno è morto. Si tratta di Alessio Carullo, 42enne originario di Arielli, nel Chietino. Carullo non era inesperto, era un geologo dello Speleo Club di Chieti, faceva parte di un team di cinque persone, tra marchigiani e abruzzesi, che a turno stavano esplorando gli anfratti della montagna. La natura, però, può rivelarsi imprevedibile e fatale, anche per i più esperti. Le forti piogge, infatti, hanno riempito l'angusto passaggio di acqua e detriti, quando i tre si trovavano a circa 70 metri dall'uscita. A lanciare l'allarme, ieri pomeriggio, un uomo e una donna, che dall'esterno della grotta si erano accorti che vi era stata una piena. Il soccorso alpino è riuscito a estrarre due degli intrappolati, un 31enne della provincia di Ancona e un 34enne di Penella. Questi, trasportati all'ospedale di Pescara, sono ovviamente provati, ma in buone condizioni di salute. La grotta si è riempita improvvisamente, una piena incredibile e inaspettata, hanno raccontato i superstiti, siamo vivi per miracolo. Nulla da fare, invece, per Carullo. Le operazioni di recupero sono andate avanti fino a notte fonda, impiegando quasi 100 soccorritori. I vigili del fuoco hanno utilizzato idrofore per svuotare i sifoni, pozze che possono allagarsi facilmente, ostruendo il cammino. Solo quando il livello dell'acqua è sceso abbastanza, sono riusciti a recuperare il corpo privo di vita del 42enne. L'uomo avrebbe commesso l'errore di infirarsi in un passaggio a testa in giù e probabilmente è morto annegato. La pioggia era annunciata, prevista dall'allerta meteo, ma nessuno si aspettava che la grotta potesse riempirsi in meno di un'ora. La procura di Pescara ha aperto un fascicolo sulla tragedia.